Ciao amici, c'è un trucco per rimanere giovani e fare prevenzione per il cuore anche superati gli ANTA. È l'elisir di lunga vita? Magari esistesse. Il trucco di oggi è molto più semplice, lo possiamo fare tutti ed è anche gratis. Se siete curiosi, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Sto per dirvi il trucco di oggi, però arrivate alla fine del video perché ho preparato per voi una sorpresa speciale. Il trucco è fare flessioni. Sentito? Devi avere i muscoli da squalo tigre, non da mollusco. Lo dice la scienza. Uno studio di Harvard ha dimostrato che dopo i 40 anni il numero di flessioni che si riescono a fare di seguito è correlato all'abbassamento del rischio di malattie cardiovascolari come infarto, ictus, cardiopatie, pressione alta. Nello specifico, chi riesce a fare più di 40 flessioni ha un rischio più basso del 96%. Incredibile! Già, e c'è un'altra sorpresa. Ma prima, volete aiutarmi a divulgare la salute naturale? Allora, iscrivetevi, attivate la campanella delle notifiche e abbonatevi al canale con un piccolo contributo mensile. Andate a vedere come funziona e fatelo! Allora, c'è un'altra ricerca sullo sport e la salute dopo la mezza età. Secondo uno studio uscito sul Journal of Applied Physiology, svolgere regolarmente attività fisica rende biologicamente più giovani di 30 anni rispetto ai coetanei che non fanno sport. E più si va avanti con l'età, più la differenza si fa sentire. Per fare training leggeri ma efficaci trovate una playlist sul mio canale. E se siete di Milano potete iscrivervi ai programmi di fitness in piccoli gruppi presso lo spazio Solo Salute, il mio centro di naturopatia. Ora condividete il video con i vostri amici overanta e allenatevi per fare anche voi la flessioni challenge. L'obiettivo sono almeno 40 flessioni di fila, ce la farete? Non lo so, ma chi mai parte mai arriva. Vivi sano e vivi meglio! Ciao!